Una giustizia che funziona è, prima di ogni altra cosa, presidio contro la legge del più forte e contro le infiltrazioni della criminalità organizzata che sono subdole e velenose, che impoveriscono tutto il tessuto sociale. Lo ha detto il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, intervenendo a Firenze a una tavola rotonda organizzata dalla Corte d'Appello e dall'Università su efficienza, celerità, qualità, gli obiettivi della riforma dell'Ufficio per il processo. Il Ministro parla anche della riduzione dei tempi dei processi. Dove ci sono difficoltà, dice, occorrerà intervenire con maggiore intensità con risorse e interventi di organizzazione. Per questo sto visitando una ad una tutte le sedi per capire i problemi e mettere i dirigenti in condizioni di risolverli. Ogni processo che si estingue è una sconfitta dello Stato, ha aggiunto, ma ogni processo che dura oltre la ragionevole durata è un danno tanto per le vittime in attesa di risposte quanto per gli imputati, lasciati per anni in un limbo che il più delle volte condiziona l'intera esistenza. Grazie. Grazie. Grazie.